Due settimane ragazzi, due settimane sono passate, rieccoci qua con la Serie A, con il Fantacalcio e con Vi Consiglio al Fantacalcio, una serie che vi è piaciuta tantissimo, quindi tantissimi mi piace sotto questo video se volete che questa serie continui e fatemi sapere anche se volete la reaction ai consigli del Fantacalcio, come ve l'ho portata la settimana scorsa. La settimana scorsa era perché non c'era la Serie A, però è un progetto che comunque può continuare anche dopo il weekend. Vi ricordo che a fine video risponderò anche alle vostre domande, ad alcune sì, ad alcune no, perché ad alcune ci risponderò già durante il video, già facendo le analisi delle varie partite, quindi restate sintonizzati fino alla fine. Senza perderci in chiacchiere, andiamo ad analizzare subito le probabili formazioni e vediamo cosa consigliare e cosa no. Partiamo subito e partiamo con Crotone-Lazio, che è la prima partita. Crotone-Lazio, allora, partendo dal presupposto che è già di per sé una partita difficile da analizzare perché ormai le partite della Lazio sono un po' particolari, ecco, causa tampone sì, tampone no. Quindi partiamo da questo presupposto. Allora, per la Lazio un giocatore che mi sento di consigliarvi è Lazzari, è un giocatore che è rimasto ad allenarsi con i compagni, è un giocatore che ha recuperato totalmente dal Covid, quindi Lazzari sì, il Crotone non è molto forte sulle fasce, quindi è un giocatore che metterà sicuramente in difficoltà la squadra di casa. Vado a sconsigliarvi invece Luis Alberto, ecco, qui mi prendo già il primo rischio di giornata, così come me l'ero preso per i vari Caputo, Zapata, Coulibaly nel precedente episodio. Qui vado a sconsigliarvi Luis Alberto perché giocherà senza il suo fondamentale compagno di reparto che è Milinkovic-Savic, che è positivo. Immobile dovrebbe giocare ma non si sa, comunque non è proprio in perfette condizioni, Immobile quindi potrebbe trovarsi un po' solo a predicare nel deserto. Ecco, ci sono state anche le vicissitudini di società, lo scontro con l'Otito per l'aereo, per gli stipendi, quindi potrebbe peccare di mancanza di tranquillità. Mi sento di escluderlo Luis Alberto, se avete di meglio. Per il Crutone invece da schierare assolutamente Simi, è il suo momento, la difesa della Lazio non è eccezionale, l'abbiamo visto. Mettete Simi perché dovrebbe andare in gol. Andiamo a Spezia-Atalanta, una partita che sembra dall'esito scontato e già faccio tanta difficoltà a consigliarvi qualcuno dello Spezia. Allora, se devo consigliarvi qualcuno sicuramente Nzola, è un tipo di centravanti che può mettere i bastoni fra le ruote alla difesa dell'Atalanta. L'Atalanta bene o male è un gol a partita lo subisce, Nzola è uno che si è affermato durante l'assenza di Galabinov, Galabinov ancora assente, quindi Nzola sì per lo Spezia. Per l'Atalanta vi vado a consigliare Gusens, che sembra una cosa scontata, in realtà Gusens è riduce da un problema, però ha sempre brillato nelle prime giornate. Mentre no, Muriel e Zapata. Muriel e Zapata se potete, se avete alternative valide, evitateli. Giocatori che avranno molte ore di ritardo rispetto ai compagni, potrebbero anche partire dalla panchina, non lo so, qui mi da Miranchuk Lammers, ma comunque io non ci faccio molto affidamento. Dico in generale, è un pensiero mio, potrebbero partire dalla panchina Muriel e Zapata, in particolare Zapata evitatelo, mentre Muriel magari quando entra dalla panchina dà qualcosa in più. Però è una partita che si preannuncia, almeno sulla carta, dall'esito scontato, quindi a questo punto vi vado a dire escludeteli entrambi se avete delle alternative valide. Consigliato Ilicic, attenzione, Ilicic ha giocato in nazionale, ha segnato, sul rigore è vero, però potrebbe essere quell'upgrade mentale che gli permette di tornare a dei livelli più o meno accettabili. La partita non è proibitiva assolutamente, potrebbe essere il momento di Ilici, dategli fiducia. Passiamo a Juventus-Cagliari. Per la Juventus dico due nomi, Danilo e Kuluseski. Danilo fino ad ora è sempre stato il migliore in campo della Juventus praticamente, avrà anche De Ligt al suo fianco, che è rientrato dall'infortuna, quindi presumibilmente giocherà ancora più tranquillo. Kuluseski ha fatto molto bene in nazionale, è un po' che manca all'appuntamento con il bonus, che sia assist o che sia gol. La partita sembra ottimale per lui, quindi Kuluseski sì, è il suo momento. Da sconsigliare per la Juventus-Chiesa viene da un problemino, avrà dei compiti difensivi anche ovviamente, e potrebbe soffrire perché il Cagliari attacca molto sugli esterni, quindi lui si abbasserà, avrà meno la possibilità di andare verso il fronte d'attacco e più di contenere quella che è l'offensiva del Cagliari, che comunque abbiamo visto è una squadra che non è che si chiude. Parlando di questo però, credo che il Cagliari parta con un baricentro leggermente più basso, quindi Gio Pedro sì, perché potrebbe comunque viaggiare sulla linea dei centrocampisti, potrebbe trovare l'imbucata per qualche compagno, per Simeone. Gio Pedro sì, no invece a Zappa, Zappa che andrà ad occupare la fascia del rientrante Alexandro potrebbe creargli qualche problema, su quella fascia c'è anche Ronaldo, quindi viene da ottime prestazioni Zappa, questa però è una partita magari dove evitarlo, mettiamolo in panchina. Possiamo schierare invece Marin, secondo me, mentre no a Rog, assolutamente, che avrà il compito di contenere le offensive sulla tre quarti della Juventus, quindi scalerà molto indietro, avrà molti compiti difensivi, il Malus è dietro l'angolo, a Rog assolutamente no, evitatelo. Andiamo avanti, andiamo avanti e troviamo Fiorentina-Benevento, un'altra partita che sembra dall'esito scontato, ma potrebbe riservare delle sorprese e la prima è che secondo me Drogoschi prenderà gol, quindi non fatevi ingannare dalla partita, non date per certo Drogoschi. Benevento è una squadra che attacca, è una squadra che ha pochi nazionali in confronto alla Fiorentina, quindi è una squadra che ha avuto la possibilità di allenarsi meglio, di riposare meglio, potrebbe creare più di qualche problema alla Fiorentina e comunque con Prandelli non sappiamo ancora che status tattico e tecnico avrà. O Drogoschi, Vlaovic, sì, schienate Vlaovic perché è quel centramanti che a Prandelli piace, è quel centramanti che fa un lavoro che vuole lui, che fa i movimenti che vuole Mr. Prandelli, quindi credo parta titolare, anche se qui non si capisce niente dalle probabili formazioni, però anche qualora non dovesse partire titolare entrerà sicuramente. Anche Pulgar, sempre lo stesso riscorso, il Benevento è una squadra fallosa, potrebbe creare le circostanze ottimali per un calcio piazzato che sia rigore o punizione, quindi sì. Per il Benevento vado a consigliare invece Letizia, Letizia che dovrebbe attaccare sulla fascia che verrà presidiata da Caceres, Milenkovic o Venuti, non so perché la Fiorentina gioca a quattro, quindi non so se ci sarà Lirola su quella fascia, comunque è la fascia debole della Fiorentina. Letizia dovrebbe attaccare il trenno assolutamente a Roberto Insigne. Andando avanti troviamo l'Inter contro il Torino. Per prima cosa dico Andanovic. Andanovic sì, dovrebbe essere una partita buona per trovare la quadra difensiva dell'Inter, questa. Non è un consiglio scontato a Andanovic perché l'Inter viene da varie imbarcate. Sì anche per Vidal. Vidal viene da tre goli nazionale, se non sbaglio. All'Inter come al solito è in emergenza a centrocampo, quindi sì a Vidal deve un po' invertire la tendenza che è stata nelle ultime partite, può essere la sua partita. Sì anche a Barella, ovviamente inamovibile credo in questo momento Barella anche in termini di fantacalcio. Per il Torino no assolutamente a Verdi, no assolutamente a Lukic e no alla coppia difensiva Bremer-Coulou. Assolutamente da evitare. Mentre se devo andare a schierare, a rischiare qualcuno del Torino, una partita un po' così, ci metterebbe nevoi Voda che se non avete di meglio e vi serve un possibile Voto che possa essere anche un 5,5, e assolutamente lo sto dicendo che prende 6,5,7, però potrebbe rivelarsi meglio di quanto si possa pensare. Voi Voda sì, perché no? Andiamo avanti e troviamo Roma-Parma. Allora, nel Parma faccio il primo nome da lì e parendo a Bruno Alves. Sì a Bruno Alves. Prenderà in carico a Borga Majoral perché non c'è Zeko. Borga Majoral l'abbiamo visto, tra l'altro assolutamente evitate Borga Majoral, non fatevi ingannare da questa partita. Se avete di meglio schierate di meglio. Mentre schierate Bruno Alves può regalare sorprese. Occhio sempre ai calci piazzati perché nella Roma non si sa se gioca a Mirante, non si sa se gioca a Smulling. Quindi, bene Bruno Alves e nella Roma Spinazzola sì, reduce dal fastidio muscolare, ma sarà in campo e con le praterie che riescono ad aprire i tre quarti si diventa quasi un attaccante aggiunto. Sì a Spinazzola, per il Parma sì, anche a Caramù. Invece, sempre per lo stesso discorso, potrebbe avere qualche spazio in più. Andando avanti troviamo Sampdoria Bologna. Ecco, due nomi, uno per parte Ramirez e Barro. Avranno loro il compito di scardinare le rispettive retroguardie. Hanno loro le caratteristiche tecniche per fare la differenza in questo tipo di partite. Mentre, da evitare assolutamente il centrocampo del Bologna. Scouten, Svanberg e ci metto anche Orsolini. Ecco, Orsolini attaccherà dal lato più compatto della Sampdoria. Quindi, panchina per Orsolini. Mentre il centrocampo della Sampdoria è molto folto. Quindi, Svanberg e Scouten rischiano di essere sempre in inferiorità numerica. Evitateli assolutamente, se potete. Sì a Quagliarella, invece. Questa è la partita buona per Quagliarella. È la sua partita. Andando a un'altra partita molto molto interessante. Verona-Sassuolo. Allora, qui, sconsigliato per il Verona, subito, Miguel Veloso. Che potrebbe addirittura giocare sulla linea dei difensori. Il Verona è in emergenza difensiva. Quindi, Miguel Veloso, evitatelo. Che sia difensore centrale o che sia anche sulla linea del centrocampo. Comunque, avrà il compito infelice di fare da scudo alla difesa. Che non è proprio il suo ruolo ideale. Mentre, eh sì, da evitare anche Silvestri. Non me la sento di schierarlo in questa partita. Dovrà sopperire lui alle mancanze della difesa. Gioca comunque contro una squadra contro il Sassuolo. Che ha conservato i gol che non ha fatto contro l'Udinese. E ho tanta tanta paura possa sfogarli in questa partita. Motivo per cui vi vado a consigliare Boga e la sua partita. È il momento, come per Vidal, di fare un'inversione di tendenza. Quindi, Boga sì, assolutamente. Sì, anche a Berardi troppo in forma per lasciarlo fuori. Al centrocampo, invece del Verona, vado a togliere anche Zacca. Anni meglio evitare, Perin è da un problema. Non è scontata la sua titolarità. Comunque non è al meglio della condizione. In ogni caso, evitatelo, se avete possibilità. Passiamo avanti. E troviamo Udinese e Genoa. Una partita potenzialmente da poche reti. Quindi consiglio, sì Musso, ma soprattutto Perin. Perin lo vedo molto molto bene in questa partita. Vedo meglio il Genoa, ecco, dell'Udinese. Diciamola così. Quindi consiglio Musso, sì. Perché potrebbe prendere più facilmente gol, secondo me. Però Musso è uno che ti prende magari 7. Quindi fa 7-1. Mentre Perin, a mio avviso, ha molte possibilità di chiudere con un clean sheet. Quindi sì a Perin, sì a Luca Pellegrini. Che dovrebbe partire titolare. Ha smaltito i vari fastidi di infortuni, di coronavirus. Sconsigliati, invece, Bani e Biraschi. Che prenderanno in consegna rispettivamente Pussetto e Delofeu. Quindi non esattamente i clienti ideali, ecco, per due giocatori di questa tipologia. Consigliato per l'Udinese, Arslan. Che avrà campo libero lasciato da De Paul e Pereira. Che verranno presidiati da Rovella e Lerager. Arslan dovrebbe essere preso in consegna da Badel o da Zayt. Potrebbe fare una grande prestazione, potrebbe stupire. Arslan sì. E chiudiamo. Chiudiamo con il big match. Napoli-Milan. Allora, partiamo dal Milan. Partiamo dal Milan in cui vado a sconsigliare Romagnoli. Che sono già un paio di partite che non gioca benissimo. È nervoso. Anche il nazionale si fa munire in una maniera del tutto gratuita. Teoricamente dovrebbe essere quello che più tiene a bada l'attacco del Napoli. Che già di per sé è un brutto cliente per chiunque. Quindi evitate Romagnoli. Evitate a sorpresa anche Teo Hernandez. Dico di no perché Teo Hernandez giocherà sulla fascia dove ci sarà Di Lorenzo e uno tra Politano e Lozano. Non esattamente il massimo. Avrà tantissimi compiti difensivi. Ma risparmiatelo se potete. Mentre sì, ha che sì e Ben Nasser. Vedo molto la chiave di questa partita a centrocampo. E secondo me il Milan avrà la meglio in quel reparto. Indipendentemente poi da come finirà la partita. Quindi che sì e Ben Nasser, sì entrambi. Sì anche a Rebic per il Milan. Sì è infortunato Leao. Giocherà a lui. Ha tanta voglia di tornare, di spaccare. Sarà una chiave anche lui. Secondo me in questa partita aprirà comunque degli spazi. Darà superiorità numerica. Sì anche alla Salamandra Sile Makers. Che attaccherà sul lato debole del Napoli. In quel caso Mario Rui non è in un momento di fiducia. Quindi sì a Salamandra Sile Makers. Per il Napoli. Per il Napoli. Sulla falsariga di quello che ho detto prima. Per il centrocampo del Milan. Di conseguenza vado a escludere Fabian Ruiz. Non si sa se il Napoli giocherà a 2, a 3 a centrocampo. Credo suppongo a 3. Perché non c'è Osiman. Ci si deve coprire in qualche modo. Quindi presumo a 3. In ogni caso escludete Fabian Ruiz. Che vista anche la possibilità dell'assenza di Bagaioco. E' troppo un rischio. Potrebbe trovarsi veramente in difficoltà. Contro la sostanza del Milan a centrocampo. Escludete anche Lozano. Che dubito possa partire titolare. Perché Politano è stato a riposo. Praticamente per due settimane. E' stato in ritiro con i pochi compagni di squadra ad allenarsi. E' in un momento di forma importante. E Lozano invece viene dalla Nazionale. Quindi Lozano no. No anche a Petagna. Non fatevi ingannare dal fatto che giocherà a centramanti. Escludetelo. Se potete. Perché comunque farà più a sportellate che altro. Magari aprirà degli spazi per i compagni. Alla fine Petagna è questo. Però in questa particolare tipologia di partite. Affrontando dei difensori come Chier e Romagnoli. Molto fisici. Avrà delle difficoltà a portarvi bonus. Quindi c'è l'insufficienza anche dietro l'angolo. Perché comunque sarà sotto i riflettori. Quanto sostituto di Osimen. Nei consigliati invece assolutamente sì a Insigne. Sì perché è troppo in forma. Troppo in palla. Troppo mentalizzato. Quindi Insigne è bascherato assolutamente. Indipendentemente da tutto in questo momento. Bene ragazzi. Abbiamo finito con i miei consigli. Le mie analisi. Andiamo adesso a vedere le vostre domande. Quello che mi avete chiesto voi. Come ho già detto. Non ci saranno tutte le vostre domande. Ma innanzitutto quelle che mi hanno colpito di più. E poi quelle che non includono una risposta implicita nel video. Mi vado subito a dire. Uno tra Raspadori e Kwame mi chiedono. Dico Raspadori. Che dovrebbe partire titolare. Kwame non si sa. Raspadori viene da un'ottima prestazione in under 21. Quindi ti dico Raspadori. Altra domanda. Due. Tra Lozano, Barrov e Scamacca. Allora Barrov te l'ho consigliato. Lozano te l'ho sconsigliato. E quindi dico Barrov e Scamacca. Comunque è in forma anche lui. Scamacca mi sento tra lui e Lozano in questo momento di optare per il Genoano. Altra domanda. Due tra Bentancur, Ramirez e Djuricic. Allora su Djuricic non mi sono espresso. Ecco. Non mi sento né di sconsigliarlo né di consigliarlo in linea generale. In questo caso. Allora. Premesso che Ramirez lo do per titolare. Quindi andando a fare la scelta tra Djuricic e Bentancur. Dico Djuricic. Bentancur è troppo sottotono. Ultimamente non vedo una grande prestazione di Bentancur probabilmente dalla fine del campionato scorso. Evitate Bentancur in generale. In particolare modo se hai come alternativa Djuricic. Vai. Djuricic e Ramirez. Altra domanda. Due tra Insigne Guagliarella e Gervinio. Allora sì. Gervinio è intrigante. E potrebbe causare vari problemi alla difesa della Roma ma c'è il gol dell'ex dietro l'angolo. Però se devo scegliere ecco nonostante sia una buona possibilità se devi scegliere ne due vai con Insigne Guagliarella. Andiamo andiamo avanti nelle domande. Due tra Illicic, Muriel, Lozano e Rebic. Ecco qui ti rispondo lo stesso anche se ti ho consigliato già dal video perché comunque Illicic, Muriel è un bel dubbio. Dico Illicic e Rebic. Quindi mi attengo a quello che ho detto nel video. Allora Lozano è da escludere a prescindere secondo me. Quindi rimangono Illicic, Muriel e Rebic. Sta a te in questo caso. Se ti senti di dare fiducia a Illicic ti dico Illicic. Può trovare il gol. Può avere la svolta a livello di fiducia. Mentre Muriel potrebbe anche entrare dalla panchina. È vero che quando entrare dalla panchina è devastante. Però potrebbe entrare sul risultato già chiuso. È spezia Atalanta. Rendiamoci anche conto di questo. Facendo tutte queste valutazioni ti vado a dire Illicic e Rebic. Andiamo andiamo con un'altra domanda. Altre due anzi. Gio Pedro o Palasio? Gio Pedro o Palasio dico Gio Pedro. L'ho detto anche nel video. Potrebbe avere qualche facilità in più. se Di Francesco riesce ad avere questa chiave di lettura. Quindi ad abbassarlo leggermente. A farlo partire da più dietro. Palasio verrà marcato molto stretto dai centrali. Avrà il compito di aprire le spazie. Quindi vedo un bonus più difficile per Palasio. Quindi vai con Gio Pedro. Uno tra Zajic, Viola e Cristante. Escludendo Cristante a prescindere. Tra Zajic e Viola non è una cattiva idea. Viola. Però credo non possa giocare titolare. E in pochi minuti comunque affronti una squadra come la Fiorentina. Non me la sento di dirti Viola. Io Zajic personalmente lo metto in panchina. Però ho delle alternative diverse. Se tu hai Zajic e Viola. A quel punto vai con lo sloveno. Altre domande. Caputo recupera? Allora, non sono nello staff del Sassuolo. Però ti posso dire che sicuramente no. Nel senso, sicuramente non partirà titolare secondo me. Perché De Zerbi l'ha reschiato una volta. Abbiamo visto le conseguenze. E non è così stupido da rifarlo. Quindi giocare a Raspadori dall'inizio. Caputo potrebbe entrare qualora la partita si mettesse male. Io credo non succederà questo. Però credo che il Sassuolo possa imporsi sul Verona. In un modo abbastanza sciolto. Quindi credo che Caputo non entrerà. Perché De Zerbi poi, quando ha il risultato al sicuro, non è che ti dà quei minuti a giocatori importanti. Va a dare minuti a chi ne ha più bisogno. Quindi farà entrare magari Traoré. Farà entrare Araslin. Non Caputo. Quindi se hai di meglio, evita. Altrimenti rischialo. Male che va, ti entra uno della panchina. Altra domanda. Iankto o Ziliski? Qui ti dico Iankto. Sta giocando bene. Avrà vita facile secondo me contro il centrocampo del Bologna. Ziliski no. È irriconoscibile. Chiudiamo, chiudiamo. Chiudiamo con le ultime due domande. Allora, la prima. Eriksen o Politano? Qui mi verrebbe da dire Politano spontaneamente. Perché Eriksen è un giocatore trasformato in negativo da Conte. Ecco, anche se dico Politano, probabilmente li avessi io schiererei Eriksen. Quindi mi coglie del tutto impreparato. Ti voglio dare la lettura più che la risposta alla domanda. Oggettivamente, in questo momento, tra Eriksen e Politano c'è un abisso. Va schierato Politano. Se vogliamo metterla sull'istinto di una lettura delle partite, ti direi Eriksen. Quindi, fai tu. Volevo comunque risponderti perché è una domanda interessante, però non mi sento di dirti una verità assoluta. Mentre l'ultima domanda, Riberi o Insigne? Insigne, ragazzi. Va messo, appunto. Anche se Riberi ha una partita semplice, ma parliamo di momenti di forma psicologici, momenti di forma fisici. E Insigne in questo momento è una spanna sopra. Quindi vai con Insigne, vai con Lorenzino nazionale. Noi chiudiamo qui per oggi, ragazzi. Fatemi sapere se questi consigli vi sono stati utili. Se avete consigli last minute, scrivetelo con un commento. Tantissimi mi piace per questa serie, per questo video. Fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi perché dalle percentuali, la metà degli utenti che guardano i miei video non è iscritta al canale. E non si fa. Non va bene. Non va bene. In descrizione trovate anche tutti i link per seguirmi sui social, Facebook, Instagram. Noi ci vediamo o con la reaction lunedì o in generale con i vari post partita, vari commenti, analisi di questo weekend carico, carico di Serie A. Ciao ragazzi.